Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi il primo video all vero e proprio dedicato ai saldi di quest'estate 2023 quindi vi farò vedere una parte, la prima parte delle cose che appunto ho acquistato con i saldi ho pensato appunto di dividere il video in due ovviamente prima se non lo fate ancora iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video se vi piacerà scrivetemi nei commenti se ci sono altre tipologie di video che volete vedere sul mio canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok. Adesso direi di iniziare, allora cercherò di dilungarmi il meno possibile di solito i miei video durano abbastanza, parlo un sacco, però siccome fa caldo sia per registrare il video sia voi comunque magari col caldo in estate dedicate meno tempo a vedere i video magari lunghissimi quindi voglio cercare di farlo un pochino più breve. Altra piccola premessa, ho il condizionatore acceso messo più silenzioso possibile, però probabilmente sentirete un leggero fruscio mi dispiace ma è l'unico modo per poter girare i video in estate adesso basta parlare, passiamo allo shopping allora vi mostrerò, partiamo dalla prima cosa questi sono i pacchetti photoshopping da Ted Zanes, Stradivarius e Berska da oggi vi faccio vedere queste cose, direi di iniziare da Berska che è solamente una cosa che in realtà è di Berska ma ho preso sul Zalando perché appunto sul sito e sull'app di Berska era finita la taglia e quindi l'ho cercata sul Zalando e l'ho trovata ma ve lo dico già prima comunque ho sbagliato la taglia lo stesso. Allora praticamente è questo vestito che mi piace troppo l'ho preso principalmente per la fantasia, tutta questa fantasia così tie-dye, non lo so mi sa un po' di anni 90-2000, ha questo effetto tipo ginsato ma non è ginsato, è elastico e poi è tutto lungo 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 fino ai piedi praticamente super super attillato, qui ha anche tipo la forma dei fianchi come potete vedere per appunto segnare perfettamente la figura, definire benissimo le forme e il problema è uno, non c'era la S disponibile e quindi ho preso la XS ma secondo me il problema è proprio la conformazione del vestito perché non è che mi sta stretta cioè proprio non riesco a infilarlo dalla testa, zero perché appunto questa parte non ha cerniere, non ha nessun tipo di apertura e questa parte come potete vedere, guardate in confronto alla mia testa qui, alla mia vita è piccolissima, quindi non lo so questo qui allora appunto è la XS ed è costato 25,90, 95 una cosa del genere ho preso adesso perché è tornata disponibile la S, mi arriverà nei prossimi giorni quindi lo vedrete nel prossimo video ho dedicato ai saldi e vi farò sapere se appunto alla fine mi entra oppure no perché ho il dubbio per il resto il vestito mi piace da impazzire, è troppo troppo bello la fantasia è stupenda, se lo trovate secondo me è da prendere ovviamente appunto non ve lo posso far vedere indossato perché non mi entra e quindi nulla, ci accontentiamo di averlo visto in questo modo quindi diciamo questo è stato il primo piccolo fail di questo video haul però vi devo dire che il vestito è veramente molto bello quindi vedremo, ci vediamo alla prossima puntata per capire come andrà a finire con questo vestito passiamo adesso a Stradivarius così continuiamo su questa scia dei vestiti perché appunto avevo voglia di prendere dei vestiti diversi per quest'estate diciamo con questo stile che si sta usando principalmente quest'anno e appunto ho preso questo qui che più o meno è molto simile appunto spalline sottili questa fantasia non proprio tie dye però sì un po' così a sfumature e anche questo è lungo lungo fino appunto ai piedi però questo a differenza di quello è di un tessuto intanto molto più morbido e poi è tutto con questa rete tipo traforata e sotto ha una piccola sottoveste però più corta quindi che comunque arriva tipo come una minigonna e poi prosegue lungo lungo fino ai piedi mi piace un sacco, questo l'ho già indossato è veramente veramente bello secondo me addosso e non è nemmeno, cioè essendo comunque traforato e leggero fresco anche per le sere d'estate più calde tipo quelle che sto facendo ultimamente e appunto è di Stradivarius di questo ho preso la S però devo dire che questo comunque ha una vestibilità più morbida quindi non è eccessivamente sagomato probabilmente anche la XS mi sarebbe entrata, non lo so visto che l'ho preso online appunto ho preso la mia solita taglia però appunto l'ho indossato, mi è piaciuto e niente questo qui ve lo faccio vedere indossato così appunto vedete com'è ecco il vestito indossato, vi metto anche la ripresa a figura intera secondo me molto molto bello appunto come potete vedere cade benissimo sulle forme secondo me non segna perfetto mi piace molto poi sempre appunto da Stradivarius ho preso questo mini toppino che non lo so, mi piaceva un sacco per questa forma così tipo quasi reggiseno tipo quasi un reggiseno sportivo da casa, da notte, non lo so però mi piaceva forse anche per il colore con gusto grigio ed è della collezione questa qui che praticamente è quella tipo appunto senza cuciture comoda per fare sport, per stare in casa questo qui l'ho pagato 3,99 euro e ho preso la S, la mia solita taglia semplicissimo, cioè un semplice toppino elasticizzato però ripeto carino secondo me ve lo faccio vedere indossato così vedete appunto come veste e basta ecco il toppino indossato super semplice però carino anche per stare in casa oppure non lo so magari con un camicione messo sopra comunque super easy mi piace, mi piace un sacco soprattutto per il colore e il fatto che è a costine quindi approvato, carino poi sempre per restare in tema vestiti ho preso un altro vestito che mi era piaciuto un sacco l'avevo visto durante la primavera in collezione appunto ma non l'avevo mai preso l'avevo visto anche in altri negozi ed è praticamente un vestito tutto tutto in denim fatto in questo modo attillato a corpetto e poi che scende anche questo lunghissimo tipo un po' come le gonne appunto di jeans che si sono usate questa primavera però questo in più ha anche il corpetto sopra e lo sfacco sul davanti così ovviamente anche questo lo vedrete indossato e vedrete meglio magari intanto vi metto una piccola ripresa anche a figura intera e poi dietro ha le tasche e questa cerniera sulla schiena appunto devo dire che questo qui è molto 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 attillato e quando l'ho provato perché l'ho provato prima di fare il video ho avuto difficoltà ad alzarmi la cerniera fino alla fine perché appunto ero da sola sono da sola anche in questo momento quindi io proverò a farvelo vedere indossato per bene ma probabilmente non riuscirò ad alzare del tutto la cerniera quindi non mi so dire al 100% se mi entra oppure no devo dire che secondo me è una S molto attillata non tanto per la parte di sotto perché comunque la parte di sotto è comoda e anche elasticizzata quanto di più per la parte della vita piccolissima è la parte di sopra quindi non lo so magari provate a prendere o due tagli o se lo trovate in negozio provatelo perché non lo so ha una vestibilità un po' strana però quando poi indosso è molto molto bello quindi appunto ve lo faccio vedere indossato ma prima vi dico allora io ho preso appunto la S la mia solita taglia e l'ho pagato 19,99 prima costava 45 quindi comunque c'era un sacco di sconto cioè inizialmente questi vestiti così in denim avevano dei prezzi molto alti e quindi ho pensato bene di prenderlo in saldo anche perché questo qui secondo me si può sfruttare tanto anche in autunno alla fine perché come materiale come tessuto è abbastanza pesantuccio qui da me fa caldo praticamente fino a ottobre quindi questo qui sicuramente si può usare con un blazer sopra un giacchettino carino va benissimo quindi lo vediamo indossato allora io ve lo dico questo vestito è bellissimo secondo me cioè addosso mi piace da morire ma dovete avere qualcuno con voi che vi alzi la zip perché è impossibile cioè da soli con le braccia così è impossibile devo dovrei cercare su internet tipo quei metodi che si aggancia qualcosa dietro per tirarsi la zip su da soli perché ripeto è impossibile per il resto il fatto che sia così attillato secondo me lo rende molto bello anche un po' sexy anche se è di jeans come vedete mi piace un sacco l'ho detto però è scomodissimo da mettere su e vedremo questa cosa cercherò di risolverla però appunto molto molto bello ma immaginate che io lo abbia indossato bene già chiuso dietro passiamo ovviamente ad un altro vestito sempre mistero di Varius l'ultimo ho preso il famosissimo vestito nero con le spalline sottili super attillato e che scende appunto anche questo lunghissimo fino ai piedi praticamente questo qui è la versione low cost del famosissimo vestito fatto in questo modo di Skims e quello costa tipo più di 80 euro non me la sentivo al momento di spendere così tanto per un abitino fatto così tipo elasticizzato nero e quindi ho voluto provare questo qui di Stradivarius lo trovate uguale praticamente è più o meno allo stesso prezzo se non sbaglio da Stradivarius da Berska e da Zara forse anche da Pull&Bear ovunque comunque in tutte queste catene c'è questo stesso vestito fatto allo stesso identico modo appunto io ho preso questo da Stradivarius visto che stavo facendo l'ordine questo non era in saldo ho preso la S e costa costa 19 e 99 vi devo dire che provandolo secondo me questo qui resta un po' più ampio cioè questo credo che debba stare attillatissimo tipo un costume proprio per fare quell'effetto di modellare e questo invece secondo me resta un po' troppo morbido soprattutto sulla pancia adesso lo vedrete indossato e capirei da cosa mi riferisco ve lo faccio vedere quindi probabilmente lo porterò in negozio e proverò che credo che ci sarà sicuramente in negozio visto che non è in saldo proverò la taglia più piccola la XS così capisco se è il problema diciamo e la taglio se è proprio il vestito che è fatto in questo modo devo dire per il resto molto molto bello un vestito nero che si abbina a qualsiasi cosa e comunque costa poco 19 euro ma secondo me abbinato con gli accessori giusti è anche molto elegante oppure semplicemente da giorno anche con le scarpe da ginnastico delle ciabattine quindi appunto volevo prenderlo un vestito fatto in questo modo poi secondo me lo scollo così con le spalline sottili è molto carino mi piace come mi sta addosso e quindi niente è preso quindi adesso lo vediamo indossato anche questo ecco il vestito indossato appunto come vi dicevo non mi fa impazzire perché resta troppo morbido su questa parte qui e secondo me devo andare a sagomare un po' di più piuttosto che restare così come potete vedere anche qui sui fianchi non lo so lo proverò appunto più piccolo perché in generale mi sembra tutto un po' troppo troppo morbido quindi vedremo e vi farò sapere anche per questo qui magari in un prossimo video con i vestiti abbiamo finito direi adesso di passare ai costumi visto che quest'anno ho comprato pochissimi costumi vi ho mostrato pochissimi costumi cioè in realtà credo di averne comprato solamente uno sì ma lo scorso weekend se avete visto i video precedenti sono stata a Favignana e appunto quindi dovevo andare al mare e avevo voglia di costumi nuovi perché comunque ho messo sempre voglia di avere dei costumi nuovi e quindi sono passata da Tezenis e ho preso dei costumi che adesso vi faccio vedere allora sono tutti senza cartellino perché appunto li ho portati con me a Favignana però vi metto una ripresa che ho fatto prima di partire e che comunque ho messo anche nel vlog in cui preparavo la valigia quindi vi faccio vedere i cartellini con appunto i prezzi e i codici allora praticamente i costumi sono questi questo è 16 questo qui 16 e 19 quindi comunque su questo ho risparmiato un sacco su questo un po' meno però comunque sempre 6 euro 7 euro questo qui invece ha prezzo pieno ed era 9 euro e 12 euro 13 vabbè iniziamo praticamente date zenis credo che la stiano facendo ancora questa promo comunque quando ci sono andata io stavano facendo una promo che su quasi tutti i costumi cioè su quelli colorati da quello che ho capito tipo quelli a fantasia tipo non quelli basic appunto non quelli tutti neri ma su tutti gli altri stavano facendo una promo in cui qualsiasi costume c'è la coppia il pezzo di sopra e il pezzo di sotto veniva 20 euro sempre qualsiasi era il prezzo 20 euro e quindi ho preso due con questa promo quindi questi sono costati 20 euro 20 euro questo e 20 euro questo e mentre poi ne ho preso appunto uno tutto nero che non era in promo questo qui veniva un pochino di più è un costume abbastanza semplice però mi sono resa conto quest'anno che i costumi a tinta unita mi piacciono di più rispetto a quelle fantasie c'è anche di quelli che ho negli scorsi anni sto usando di più quelli a unico colore rispetto a quelli con le fantasie forse mi stanno un po' stancando e quindi ne ho voluto prendere uno nuovo tutto nero fatto così proprio super semplice a triangolino l'unica particolarità è che qui ha questa striscia tipo un po' arricciata la coppa è imbottita ma si può togliere l'imbottitura e poi niente si allaccia sul collo è sulla schiena e poi il sotto è questo qui praticamente lo slip con aspettate con i laccetti ma solamente da una parte cioè da questa parte si annoda si fa il laccettino e si stringe da questa parte invece c'è solamente il filo in questo modo devo dire una cosa per quanto riguarda i costumi di Tezenis quest'anno ho notato che tutti i costumi sono o perizoma o mutandone cioè non esiste più la brasiliana classica cioè probabilmente per loro questa è una brasiliana ma e anzi allora questo è quello che il retro è più grande diciamo rispetto a tutti quelli che ho comprato ma sono indossati sono dei perizomi quasi cioè io non lo so infatti ho avuto un attimo di difficoltà cioè non ero troppo sicura di prenderli però alla fine ho detto vabbè ok prendiamoli e secondo me anche la vestibilità in generale della parte di sopra è un po' più slim più piccolina cioè non lo so fatemi sapere nei commenti se anche voi avete notato questa cosa che man mano i costumi in generale anche alcuni vestiti stanno andando sempre a rimpicciolirsi perché boh comunque il fatto sta che ho preso questo qui nero appunto poi mi sono innamorata follemente veramente proprio follemente di questa parte di sopra di costume che secondo me è bellissima mi piace veramente tanto proprio la forma come veste e il colore cioè di questo costume mi piace tutto bellissimo e appunto ho deciso di prenderlo è fatto in questo modo alle spalline fisse quindi non si possono né regolare né slacciare diciamo quindi restano così e dietro poi si può allacciare appunto con i laccetti troppo bello questo secondo me è veramente stupendo ma il mio dubbio era la parte di sotto perché appunto c'era o un mutandone enorme a vita alta in generale dietro che non lo so non mi piaceva aveva tipo delle arricciature che davano un effetto strano sul mio sedere magari con un sedere boh diverso sta meglio a me stava malissimo e quindi ho provato questo qui fatto con i laccettini che davanti a tutta questa arricciatura e dietro è mini micro cioè so se riuscite a percepire il dietro è super piccolo ma non è questo che mi lascia perplessa quello che un po' mi lascia perplessa è questo effetto sul davanti tipo cioè non lo so troppa stoffa pendente tipo quindi ero un po' indecisa non sapevo se prenderlo oppure no la parte di sopra mi faceva impazzire anche proprio indossata la parte di sotto mi lasciava un po' mi alla fine l'ho preso indossato nel complesso non è male infatti appunto l'ho messo però ripeto fosse stata una botandina semplice o comunque fatta meglio secondo me non è fatta benissimo questa parte del davanti fosse stata fatta un pochino meglio di sicuro mi sarebbe piaciuta di più infatti stavo pensando di provare a cucire tipo qui delle piccole pieghette sui lati e quindi tirare un pochino queste strisce questa arricciatura a renderla un pochino più definita e meno morbida non lo so vedremo il fatto sta che è bellissimo e questo qui appunto cioè la parte di sopra è bellissima mi piace troppo troppo il colore e questo qui l'ho pagato appunto è tutto 20 euro poi passiamo ad un altro costume un po' trash che ancora non ho indossato diciamo non ho avuto l'occasione giusta ed è questo qui scusate guardate tutto pieno di strass e praticamente argento proprio tipo metallizzato e poi davanti ha tutti questi strass attaccati infatti pesa anche un sacco e la stessa cosa c'è anche sulla parte di sopra che è un semplicissimo triangolino allora è vero che è un pochino trash fatto così ma mi piaceva troppo non so perché questo mix di trash un po' così mi è piaciuto e quindi ho voluto prenderlo questo qui l'ho immaginato magari non per andare semplicemente in spiaggia quotidianamente ma tipo magari per fare degli aperitivi comunque delle serate delle feste in spiaggia aperitivi in spiaggia una cosa un pochino più particolare appunto anche con questo qui è sotto un pareo secondo me è molto carino anche perché questo qui è quello che secondo me è il più nudo di tutti dietro perché è esattamente fatto in questo modo state vedendo però è molto bello mi piace un sacco anche perché ha questi lacetti e ha proprio questa forma a V quindi sale sui fianchi molto molto carino anche questo appunto pagato 20 euro ah mi sono dimenticata di dirvi di questi costumi ho preso di tutto della parte superiore la seconda ovvero la mia solita taglia e della parte inferiore la S la mia solita taglia quindi credo che la vestibilità più o meno a parte il fatto che quello nero è leggermente slim però per il resto la vestibilità più o meno è quella perché tipo di alcuni ho provato anche la terza per essere diciamo non lo so magari più coprende tra virgolette e in realtà non era più coprente era solo più cioè mi stava grande ma non andavo a coprire dove volevo che coprisse quindi tempo perso ho preso le mie taglie e basta e quindi niente questi erano i miei costumini per quest'estate non so se ne prenderò degli altri nel caso lo vedrete appunto nei prossimi video questo era tutto lo shopping che volevo mostrarvi appunto in questa parte di video spero che non sia venuto troppo lungo ma probabilmente sì scusate fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più cosa vi è piaciuto di meno cosa avete comprato soprattutto voi con i saldi se siete riusciti a fare degli affari top vi aspetto nei commenti seguitemi ovviamente se non lo fate ancora sia su instagram che su tiktok e iscrivetevi al canale vi mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo con la parte 2 di questo video e con tanti altri video ciao